E siamo live TalkGP, finalmente siamo tornati come ogni lunedì, come ogni lunedì dopo la gara e dopo le gare in questo caso, perché di gare ce ne sono state tante, Superbike, MotoGP, MotoAmerica con il grande Danilone Petrucci, una grandissima vittoria che ci fa piacere, ma poi anche se vogliamo ampliare in generale nel mondo dei motori la vittoria della Ferrari con l'Eclerc, che pare non voler smettere per fortuna ovviamente del cavallino, c'è tanto di cui parlare, noi ovviamente ci occuperemo delle due ruote insieme come solito a Roberto Buffa. Ciao Fabio, sempre un piacere essere qui nel tuo salotto a parlare di moto. Allora, oggi fuori onda dicevamo, ma magari avere weekend come quello che è appena passato, perché è stato qualcosa di bellissimo. Prima però di entrare nel merito delle gare, volevo porti un quesito che poi è quello che, come dire, che scalda anche di più i cuori, perché gli appassionati di calcio ogni domenica hanno le partite, quelli di basket, idem, comunque gli sport mainstream, bene o male, hanno ogni domenica o ogni rituale periodico, magari durante la settimana, può capitare, però una volta la settimana, a parte i periodi di vacanza, hanno da godere, no? A noi le fanno sudare, salvo a regalare. A noi le fanno sudare, bravissimo, bravissimo. E io dico, ma ne sto parlando in un gruppo di appassionati di moto, dico, ma Dorna, che è la detentrice dei diritti di Superbike e MotoGP, non riesce proprio a fare un calendario dove ogni domenica siamo qui incollati a vedere le gare, una volta MotoGP e una volta Superbike. Invece no, ci fa... Sarebbe bello, perché allora... Varebbe organizzato bene, tra l'altro. Sì, domeniche come ieri, sono veramente a mettersi le mani nei capelli, nel senso che c'erano così tante cose interessanti, così tanti spunti, cioè era la gara in cui capivi finalmente le forze in campo nella Superbike, tra Jonathan Ray o Ria, lì dobbiamo metterci d'accordo, il buon Bautista e Toprak. Dall'altra parte c'era Danilo che come esordirà nel MotoAmerica, e l'abbiamo visto. E poi c'era la MotoGP, Marquez che torna sulla pista che gli è favorevole. La Ducati, scusami, la Ferrari che parte in pole position all'Australia. Cioè, era un concentrato di emozioni e di cose che, mamma mia, cosa guardo prima, cosa mi fa emozionare di più. Effettivamente, dal mattino alla sera è stato un non-stop, una full immersion di sport ad altissimi livelli che ci ha regalato delle emozioni grandissime. Ti dico, la mia compagna non mi sopportava più, perché tra gare di moto, Formula 1, poi la sera io sono milanista, la sera da domenica c'era il Milan, che purtroppo ha pareggiato col Torino, ma c'era anche quello. E almeno sul calcio me la risparmio, voglio dire, nel senso che mi ricavo un po' di tempo per fare altro. Adesso che sono appassionato di padel, c'era anche il World Padel Tour questa domenica, quindi è un casino. Adesso ti complichi anche la vita. Mi complico la vita, hai ragione, potevo cercarmi una passione sola, invece mi piace vedere più cose. Ma, come dire, a livello di due ruote, questa domenica, come dicevamo, è stata eccezionale. Si è aperta, facciamo così subito una panoramica sulla Superbike, dove di solito ne parliamo molto poco. Io direi, facciamo una bella parentesi. Devo fare un fiume in piena sulla Superbike. Allora, dico io così, come dire, svisceriamo il tema Superbike e poi andiamo subito sui prototipi e ci lanciamo su quel mondo. Anche perché poi Superbike è iniziato prima, perché già il sabato si inizia a tarellare. E che dire, se dovevamo capire quali erano le forze in campo tra la Ducati di Bautista e la Kawasaki di Jonathan Ray, anch'io preferisco dire Ria, ma ormai dicono tutti Ray, quindi adeguiamoci Jonathan Ray con la Kawasaki, che da lato dovrebbe, anzi, è incattivito perché lo scorso anno ha perso il mondiale, vinto appunto da Toprak, Ratskatioglu, che è la terza forza, o la prima, ma l'ho nominata per terza, in sera la Yamaha. Direi che questo weekend non è che ci ha proprio chiarito le idee, perché tutti, ogni volta, erano loro tre. Gara 1, Super Polo Race, gara 2, certo con diverse gerarchie. La Ducati di Bautista fanno paura, la Kawasaki è lì, però Toprak ha comunque guidato benissimo. Cito anche il secondo Ducatista, che è Rinaldi, che comunque ha fatto la sua ottima figura e credo che possa essere un compagno di squadra molto interessante anche in termini mondiali, perché poi se la Ducati vorrà imporre forzatamente un gioco di squadra, la Ducati, a quello che vediamo dopo Aragon, ha un compagno di squadra che viaggia insieme a Bautista, mentre gli altri due arrancano un po'. Vai Roberto. Allora, su Rinaldi io sono un pochettino tiepido, nel senso che l'ho visto disputare belle gare in passato e poi precipitare nell'anonimato più completo, quindi è ancora un po' presto per dire Rinaldi sarà o meno competitivo, sarà un uomo chiave in ottica campionato. Se fosse competitivo, come l'è stato in questa tappa di Aragon, sicuramente è uno che può togliere punti ad altri. L'ho visto teso, perché si rende conto che è partito il campionato e ci sono già delle gerarchie, di fatto ci sono già chiare le gerarchie all'interno della squadra, perché se hai un fenomeno come Bautista, e qui apro una parentesi, io non ho mai dubitato del talento di Alvaro. Alvaro, secondo me, è un grandissimo pilota e l'aveva dimostrato anche in MotoGP. E' veramente un bravissimo pilota. Il fatto che non abbia fatto risultato con la Honda, voglio ricordare che i risultati non li faceva neanche Jonathan Ray, che si spaccava e basta con la Honda, e si è spaccato per anni prima di abbandonare quel cattorcio, che era più cattorcio anche di quella che c'è adesso, e finalmente andare su una moto competitiva e vincersi cinque campionati di fila. Per cui il discorso è che senza una moto competitiva, anche il più bravo dei piloti, non combina nulla. Quindi, concedi un'altra parentesi, che è proprio una sorta di necrologio, praticamente, per Scott Redding, che, povero disgraziato, si è trovato fuori da Ducati, non di certo per sua scelta. Quindi quelli che gli fanno la paternale dicono ah, Scott Redding, vedi, ad andarsene, voglio dire, da Ducati. Lui non si è andato da Ducati, lui è stato mandato via perché ha preso Bautista, e Redding e Rinaldi se lo tenevano perché Rinaldi pare che sia un po' l'uomo di Serafino Foti di dentro, per cui è comunque una persona che è caldeggiata all'interno del team e quindi il suo posto non era in discussione, Rinaldi. Per Redding non c'era più spazio. Redding è un ottimo pilota e una brava persona. Non se ne sarebbe mai andato in BMW se non l'avessero mandato via. Quindi quello che ha trovato in BMW ha trovato una situazione sicuramente non facile, ha trovato un ottimo pilota e una bella gatta da pelare che lo risbazza, che però poi alla fine in gara, in qualifica ha fatto, ma in gara non ha fatto granché. Tra l'altro, BMW si è disfatta di un Tom Sykes, che era un pilota eccezionale, che faceva la differenza in superbike, anche con una moto non competitiva, e adesso soccavo lì loro. Chiusa questa parentesi, tornando a Bautista, dicevo, c'era il dubbio se effettivamente Alvaro sarebbe tornato ad essere l'Alvaro del 2019. E all'inizio, dopo gara 1, era un po'... L'impressione era, Alvaro è sempre un grande sulla Ducati, ma gli altri hanno un attimo ricucito il gap. Dopo Super Bowl Race, avevo già cambiato idea, ma dopo Super Bowl Race ho detto, questo ha rifilato 5 secondi in 10 giri a tutti, ragazzi. Ha preso ed è andato. Ha superato Toprak all'esterno. All'esterno, che tu puoi dire tutto quel che vuoi, al supermotore, la Ducati, ma non curva quella moto. Ma lo vedevate, Bautista, come era costretto a fare le chicane? Quanto era lento e pesante nei cambi di direzione. E lì non è che gli manchi il manico, perché poi arriva subito il fenomeno a dire, eh, ma vedi però, Ray fa la differenza dove conta nel guidato. No, sto cavolo. Ray sfrutta al meglio il pacchetto che ha, quindi una moto più agile che gli permette di fare la differenza nel guidato. Fidati che se è la Kawasaki a Bautista la fa curvare anche a lui in quel modo. Quindi il concetto è, ognuno sfrutta al meglio il pacchetto che ha. Ray è un grandissimo pilota, ma Alvaro è nato per la V4. Cioè non penso che ci sia nessuno al mondo che possa andare più forte di lui su quella moto. Perché lui e quella moto sono in simbiosi perfetta. Vuoi per le dimensioni, la statura mignon, lui è super aerodinamico, la fa andare come un missile, nessuno gli sta dietro. Cioè neanche Rinaldi gli teneva la scia, perché, e non è che gli danno la moto più veloce, è che tutto funziona per far sì che quel pacchetto sia al top. E Bautista ha detto una cosa importante. Ha detto, la moto del 2019 era una moto velocissima, ma era una moto poco sincera. Quando ti mollava, ti mollava senza preavviso. Questa la trovo una moto sincera. C'è da dire anche una seconda cosa. Il Bautista del 2019 era un Bautista appena prodotto in superbike, che non conosceva tante piste che sono del mondiale superbike. Quindi per esempio a Imola si è trovato a girare per la prima volta e lì è iniziato il disastro del 2019, dopo che aveva accumulato quel vantaggio enorme. Adesso c'è un Bautista che si è fatto le ossa e se ne è anche spaccate per due anni sulla Honda. Ma intanto ha conosciuto le piste, ha sofferto. Quest'anno io lo vedo veramente fortissimo e il modo in cui ha vinto in gara 2 era il Bautista del 2019. Fabio, in tutta questa cosa, quello che io ho trovato come anello più debole del trittico è un Ray sicuramente arrabbiato, che ha voglia di vincere, che ha voglia di riscatto, ma con una moto che secondo me è ancora un po' rispetto alla Ducati di Bautista, la Kawasaki del 2019, cioè che si prende sempre sul dritto della gran paga. Quindi lì farà sempre fatica. Toprak ha patito tanto Bautista, cioè quel Toprak battagliero che l'anno scorso non concedeva una curva a Ray, si è veramente arreso a Bautista, si è fatto infilare all'interno, si è fatto infilare all'esterno, e anche quando ce l'aveva lì che poteva attaccarlo, effettivamente non è mai stato in gara, non è mai stato della partita. Spero di ritrovare Toprak, il Toprak che ho apprezzato nel 2021, nel corso delle prossime tappe, ma fino ad adesso io ho visto un Bautista strepitoso, manico vero, cioè di sminuirlo dicendo che la moto che gli concede quello, vuol dire non aver visto gli ultimi campionati, onestamente, perché gli altri con quella moto non hanno fatto quello che fa lui, ecco, e quindi alla fine bisogna concedere, date ad Alvaro quel che è di Alvaro. Assolutamente, e leggiamo velocissimamente la classifica con Alvaro Bautista che ha 57 punti davanti a tutti, ma Jonathan Ray è subito dietro a 54 punti, poi c'è invece Toprak Rascatioglu, leggermente spostato di 18 punti da Bautista, sì sì sì, e a 39, e Rinaldi che invece è praticamente attaccato a Rascatioglu, 32 punti, poi abbiamo Iker Lecuona che arriva proprio dalla MotoGP, con il team HRC, poi c'è Vier, sempre HRC, 18 punti entrambi, poi in nostra conoscenza Andrea Locatelli, l'anno scorso grande stagione per il Loca, e poi a seguire Alex Lowes, E non sono andati bene, né Locatelli né Gerloff, che erano più competitivi l'anno scorso, mi viene da chiedere se la Yamaha non abbia fatto in termini di competitività un piccolo passo indietro, perché li vedo più attardati rispetto a quello che, e più avanti del solito Rinaldi, ma ripeto, vediamo poi le prossime gare, ecco, sicuramente Assen. Ecco appunto, il 22 aprile, quindi in realtà tra due settimane, la Superbike andrà in Olanda, dove ci sarà una delle gare più attese dell'anno, poi Portogallo e Storill, poi si viene in Italia il 10-12 giugno, e poi partono un po', secondo me già queste gare qui in Olanda, poi il round italiano, anche secondo me le piste di, sia quella francese che Repubblica cieca, sono con così tante curve, strizzano un po' l'occhio alla Yamaha, che come sappiamo ha meno motore, eccetera, e anche la Kawasaki direi, certo, però io ho letto delle dichiarazioni di Bautista, che dice, questo Ducati ha fatto un'evoluzione della misera in questi due anni, anzi in questi tre anni, incredibile vederla così competitiva, e occhio perché secondo me non è così difficile vedere un Bautista, magari non dico davanti a tutti, ma super competitivo e agguerrito anche su circuiti che non sono propriamente adatti, se vogliamo dire così. Allora, 2019, Motul Dutch round, gara 1 Bautista, gara 2 Bautista, per cui la Super Paul Race fece le prime otto tappe, sette tappe vincendo, cos'è stato? Un record incredibile, cadde mi sembra dopo aver infranto quel record lì, poi da quella caduta, da quella scivolata, Ray recuperò un sacco di punti, e poi vabbè tra Bautista e Ducati c'era stato un po' uno screzzo, perché poi praticamente non ci fu più un grande campionato come invece era iniziato, e tutti si aspettavano potesse vincere Bautista quell'anno dopo un inizio così stravolgente, è stato lì proprio molto bravo e con molta testa Ray, a rimanere sempre attaccato, sempre lì a fare podi, e poi, Roberto, quando l'avversario sbaglia, Ray è sempre lì pronto a fare invece risultato, quella grande mentalità, esatto. Nel 2019, su Ducati, Bautista aveva rifilato tre secondi in gara 1 a Ray, e cinque secondi a Van der Mark in gara 2, che era arrivato davanti a Ray, quindi insomma aveva fatto il vuoto come sempre. Io mi chiedo, ma visto che prima citavi potenzialmente una poca innovazione da parte di Yamaha nello sviluppo della nuova moto per Toprak, pensi che le cose tra MotoGP e Superbike, così mi do il gancio anche per poi andare a parlare del moto mondiale, siano distaccate i dipartimenti, o pensi che comunque lo sviluppo in casa Yamaha sia stato abbastanza lento, e un po' statico rispetto alle altre case? Ma allora, io penso che i dipartimenti siano distaccati, quello che però so è che è una bella parte, una bella fetta dello sviluppo delle Superbike mondiali di Yamaha, viene portato avanti in Italia, quindi ci lavorano preparatori italiani, quindi c'è un, all'interno proprio di Yamaha, Belgarda, e di quello che è il team, il team che c'è italiano, comunque ha un ruolo cruciale, con la preparazione delle moto di Toprak e del Loca. Poi certo devono arrivare anche pezzi dal Giappone, tutto il resto, perché non è che puoi fare, puoi metterti a fare tutta la preparazione lì in locale, però non mi ricordo chi è che aveva realizzato questo servizio, forse è stato Max Temporali, che aveva parlato, è stata la presentazione del team Yamaha Superbike, forse l'ha condotta lui, e diceva, il team Yamaha, cioè dietro a Yamaha, che è questa immagine di un marchio gigantesco mondiale, in realtà c'è, nell'ambito Superbike, una realtà locale, qualcosa di molto più piccolo, che ha il suo baricentro in Italia, e quindi raccontava di come sia una famiglia, proprio questa Yamaha, non sia una, diciamo, una multinazionale, ma quella che si occupa della Superbike, quasi una famiglia. Però questo, secondo me, si va a schiantare con quello che dall'altra parte è lo squadrone della morte Ducati, perché invece Ducati investe pesantemente di brutto, ed è ben più che Aruba, cioè lì dietro c'è proprio il supporto ufficiale, ci mette mano sul progetto anche Gigi Dalligna, perché questa moto qui deve andare, deve vincere il mondiale. Però ti chiedo Roberto, ti chiedo, dopo la vittoria in Superbike da parte di Topra, che è la vittoria in MotoGP da parte di Fabio, non ci si aspettava forse degli investimenti maggiori, visto appunto i risultativi positivi, cioè invece di che sviluppare, si sono un po' fermati, godendo, esattamente. Ho avuto la sensazione che si siano un po' seduti sugli allori, effettivamente, anche perché è vero che da una parte è complicato, se vinci tutto direi stravolgo la formula, squadra che vince non si cambia, e per loro è stata effettivamente la maledizione, Fabio, io credo che l'aver vinto così tanto l'anno scorso, li abbia messi in difficoltà perché dici e adesso cosa faccio? Non faccio una moto nuova, non faccio un progetto nuovo come costretto a fare Honda che non ha vinto un tubo, mi tengo quello che ho, faccio giusto dei piccoli aggiustamenti, sia mai che sconvolgo quel delicato equilibrio che permette a Fabio di dominare, a Toprak di vincere, e invece il problema è che gli altri hanno fatto dei passi in avanti e questi passi in avanti se erano nella, anzi, queste evoluzioni, questi cambiamenti se erano nella direzione giusta sono serviti a creare un gap che oggi in pista si paga. Io ho avuto l'impressione che Toprak fosse al limite, molto più che in passato, e anche un po' sulle uova, cioè non osava e non rischiava, mi sembrava un Toprak arrendevole. Non parliamo poi di Fabio in MotoGP, Fabio in MotoGP ha oggettivamente una moto pesantemente non competitiva, infatti se vai a vedere gli altri compagni di marca dove sono, veramente spazzesco. tra l'altro pure lì mi viene sempre da sorridere pensando che mi pare che in MotoGP abbia più punti da Rimbinder di quanti ne ha Dovizioso che lo sfotteva e diceva che lui era pericoloso e non doveva essere ammesso in partenza in MotoGP e gli sta dando la paga, quindi con una moto dell'anno prima. Però sai che non ho particolare simpatia per Dovizioso proprio perché si è sempre lasciato andare a delle uscite arroganti, a delle uscite dove insomma sembrava che fosse lui il fenomeno e gli altri tutti scarsi a partire da Lorenzo e poi si è visto insomma che qual era il suo vero valore. Stavo pensando anche che anche due anni fa nel mondo delle derivate ha vinto Locatelli ha vinto con Yamaha quindi anche lì Yamaha si è domandata ma per quale motivo dovrei cambiare anche l'anno che ha vinto Mir comunque la Yamaha è arrivata a seconda con Morbidelli cioè ci sono state una conseguenza di risultati inaspettati positivi per Yamaha che hanno portato sbadatamente e erroneamente a pensare alla casa dei 3 di Apason ma sì siamo a posto ma sì va bene va tutto bene così esatto e invece bastava veramente poco per accorgersi che in realtà non andava bene niente io passerei a MotoGP se no aspetta no si si prego no non sono non sono d'accordo perché c'è ancora una cosa da dire perché tra i tanti spunti di questo weekend ce ne stavamo dimenticando c'era pure il debutto del Balda e di Bulega in Supersport grande Balda tra l'altro grande Balda allora Balda Balda in gara 1 su Egert era fatto una cosa che non ha il video libero da fare clamorosa clamorosa cioè praticamente ragazzi per chi non l'avesse seguito non avesse avuto la possibilità di seguire Balda 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 ultima curva è in testa chiude cerca proprio di portare alla corda per chiudere la traiettoria Egert che chiaramente cercava di infilarlo all'interno proprio nel curvone parabolico che porta sul traguardo ma ha chiuso troppo e gli ha chiuso l'anteriore quindi lui si è trovato con un salvataggio alla Marchez l'anteriore era andato ginocchio a terra e gomito a terra per cercare di tenere sulla moto e l'altra gamba in verticale in alto Egert ha pensato bene di andargli all'esterno per superarlo ed è stato ed è diventato una sponda della carambola per cui lui si è appoggiato su Egert ma involontariamente infatti non ha subito nessuna penalità che l'ha tenuto su quindi lui la curva l'ha fatta e Egert era andato fuori è stata una vittoria clamorosa veramente meritavano entrambi allo stesso modo però quello che volevo dire non è solo il debutto del Balda che poi ha fatto secondo in gara 2 quindi lui Egert che è il campione in carica se la giocano e ha fatto comunque un debutto competitivo ma più che altro direi che è già chiaro che la Ducati Panigale V2 che doveva dominare la categoria hanno detto no col vantaggio di cilindrata hanno fatto il regolamento apposta per far vincere Ducati sarà un dominio assoluto e invece sta Ducati così competitiva non mi pare perché la Panigale V2 di Bulega ha fatto un quinto posto in gara 1 e un podio in gara 2 dove ci sono state cadute però davanti Bulega è stato bravo non sono d'accordo sui giudizi eccessivamente duri nei confronti di Nicolò che è un bravissimo pilota che è stato penalizzato dal fatto che è stato portato in trionfo come il futuro Valentino e ha subito la pressione e poi ha ha sbarellato però lui poi ha fatto un quarto posto nel senso non è che è da bocciare non tutti sono come Petrucci che cambiano disciplina e vincono esatto lui ha fatto un quinto posto e un terzo posto comunque è stato è stato bravo però il punto è un altro cioè se vai a guardare la moto la sua Ducati è quella più in alto di tutte perché Caricasulo ha fatto un ottavo posto dove è finito le altre sono Bayliss Oli Bayliss ventunesimo Koffler ventiduesimo Fuligni ventitreesimo cioè voglio dire non mi pare che che abbiano fatto dei De Rosa a sedicesimo ma soprattutto se vai a vedere le velocità massime queste Ducati pagano qualcosa poco ma qualcosa rispetto alle Yamaha R6 le R6 erano cronometrate a 276 le Ducati a 272 271 273 e poco però era anche un rettilineo non particolarmente lungo quindi la vedo non so vediamo come va sulle piste con rettilinei più lunghi ma non ho visto questa superiorità del V2 Ducati mi sembra un po' la situazione ai tempi della vecchia superbike quando Ducati col V2 faticava sempre un po' di prestazione massima ma la chiudo qui comunque è stato bello anche quello a chiudere l'argomento faccio vedere proprio il sorpasso di cui parlavamo prima vai se poi mi vuoi fare il commento tecnico no guarda esatto qui è stata a parte che è stato tagliato è stato tagliato qui perché ha tagliato completamente la parte di rettilineo scusami sono gli highlights sono gli highlights comunque vedete torna indietro torna indietro torna indietro ecco qui dopo la S quando va quando entra poi nel curvone adesso qui c'è il rettilineo quindi il rettilineo più lungo ecco qui ingresso vedete come chiude entra strettissimo e poi prova a chiudere la traiettoria ma chiaramente è entrato troppo forte gli scappa all'anteriore e resta su perché dall'esterno c'è Gert fortunatissimo Baldassarri però è stato bravo è stato bravo certo ha comunque battagliato fino alla fine per vincere se lo meritavano entrambi assolutamente meno male che non l'ha eliminato dai giochi ma comunque Gert è arrivato secondo perché poteva anche farsi male sempre involontariamente perché non ha fatto una manovra né scorretta né pericolosa semplicemente ha tentato è entrato forte si è aggrappato i freni ha tentato in tutti i modi di chiudere la traiettoria e gli è scappato l'anteriore vabbè comunque anche quello è stato spettacolo vedi assolutamente e a proposito di spettacolo partiamo dalla MotoGP non solo io questa live l'ho intitolata Enea incanta Marquez meraviglia e Pecco delude perché secondo me è stata un po' così nonostante Pecco non abbia fatto un brutto risultato ma ci si aspettava di più da lui di più da Bagnaia ma arriviamo allo spettacolo Marquez probabilmente avrebbe vinto avrebbe dominato se non fosse stato incrippà ma quantomeno il podio era assolutamente nelle sue corde il podio era nelle scorde allora c'è da dire che il buon allora Enea ha fatto una gara da Valentino dei tempi migliori nel senso che ha amministrato ha gestito ha giocato quasi e alla fine quando ha voluto cambiare passo ne aveva perché aveva risparmiato gomma cioè lui si è fatto una gara risparmiando gomma e alla fine ha girato sui tempi migliori di Marquez gli stessi tempi di Marquez quando Marquez era in rimonta furibonda perché gli si era chiusa la vena quindi non so se avrebbe dominato se la sarebbe giocata fino all'ultimo io credo che alla fine avrebbe vinto Marquez perché era troppa la voglia di vincere in questa pista perché altrimenti non si sarebbe messo in gioco cioè lui voleva tornare in questa pista perché sapeva che qui poteva vincere e Marquez aveva bisogno di vincere in questa pista perché gli serviva per il morale e invece ultimamente gli va tutto storto quindi lui sta pagando un debito carmico chiamiamolo così ma non per voglio dire per come qualcuno crede per per i battibecchi con Valentino o per il mondiale il mondiale quello quello come posso dire maledetto il decimo maledetto mondiale di Valentino dove è chiaro ed evidente solo uno intellettualmente disonesto potrebbe sostenere che Marquez non ci avesse messo lo zampino è chiaro che Marquez quel mondiale non voleva farglielo vincere e non glielo ha fatto vincere è interferito in tutti i modi questa è la verità detto questo il debito carmico di Marquez in realtà è con la sorte perché Marquez è sempre andato fortissimo vuoi perché ha un talento smisurato e questo solo uno altrettanto disonesto intellettualmente potrebbe negargli dall'altra parte però è perché ha anche sempre preso rischi superiori a tutti gli altri cioè Marquez è uno che l'abbiamo detto quante volte fin dal debutto nel mondiale ha sempre rischiato oltre ogni misura oltre il lecito oltre oltre la soglia oltre il limite ben oltre il limite infatti non smetterò mai di ricordare quanto la sua carriera potesse già terminare il primo anno al Mugello con quella caduta spaventosa in fondo al rettilineo dove sarebbe bastato un angolo un po' diverso invece di correre parallelamente al guardrail ci si andava a schiantare a 360 all'ora e il buon Mark Marquez ahimè sarebbe finito lì quindi fortunatamente gli è andata bene però è chiaro che se prendi sempre rischi non può andarti sempre bene ultimamente gli sta andando tutto male io ero lì con le dita incrociate a sperare che non gli succedesse niente perché anche in questa gara che rischi ha preso in questa rimonta era il Markets fuori di sé di Erez 2019 prima di infortunarsi no? era quel Markets era quel Markets che superava tutti se fossero dei birilli scansatevi proprio il videogioco via 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 di qua ha superato e spargarò che ha dato un secondo dopo tre curve cioè alla fine erano tutti levatevi levatevi dalle scatole perché passo io ed era e finché non ha finito le gomme poi alla fine ma anche quando aveva finito le gomme andava come un matto il dubbio che mi viene Fabio secondo te alla fine quando Quartararò gli stava dietro e anzi se l'è giocata con lui è perché Markets aveva finito completamente le gomme o perché aveva finito le energie perché secondo me anche fisicamente non è più messo benissimo come energie anche perché poi il Texas è una pista che ti divora da quel punto di vista lunga lunga faticosa alla fine Quartararò come ti dicevo nel messaggio che ci siamo scambiati ieri prima post-gara secondo me Quartararò alla fine ha trovato la sua motivazione nella depressione di una gara opaca nelle retrovie senza potersi giocare le posizioni che contavano ha trovato la sua motivazione il suo mordente nella possibilità di giocarsi il posto con Marquez perché parliamoci chiaro per uno che fino alla fine gli diranno sempre sì hai vinto il mondiale però è perché Marquez era fuori dai giochi e io ne sono convinto ma anche Mir cioè quelli sono mondiali che se Marquez non si fosse infortunato nel 2019 sarei stato 2019 2020 2021 Marquez e lo dice uno che non ha mai tifato Marquez ma ne ha sempre riconosciuto il talento smisurato li avrebbe vinti a mani basse perché e qui veniamo al vero punto il nocciolo della questione in superbike ci sono tanti talenti e ci sono tre piloti quelli che si giocano le posizioni che contano che hanno un talento superiore alla media nella MotoGP il commentatore di MotoGP.com io lo seguo in inglese su MotoGP.com non seguo il buon Mede Sanchini ha detto una cosa secondo me che con la quale non concordo ma è chiaro che loro debbano sostenere questa posizione Fabio ha detto in MotoGP non si sono mai visti dei mondiali così tirati perché non c'è mai stato così tanto talento tutti insieme io voglio essere impopolare secondo me non c'è mai stato così poco talento tutto insieme perché sono tutti piloti talentuosi e piloti comunque eccezionali rispetto alla media di qualsiasi pilota là fuori anche professionista ma i fenomeni veri lo ripeterò all'infinito erano altri e sono in gran parte in larga parte ritirati il fenomeno l'abbiamo visto ieri Mark Marquez lì vedi l'eccezionalità quando Mark si scatena in quel modo ma non so io non vorrei condividere l'ottimismo di Pernat che ha detto a fine gara Mark Marquez è tornato abbiamo visto sì abbiamo visto il Mark Marquez di un tempo ma l'abbiamo visto ad Austin nella sua pista c'erano una serie di situazioni vedremo le prossime gare io spero in cuor mio che torni il Mark Marquez di sempre perché non è vero che la MotoGP ha bisogno di battaglie serrate e dieci piloti differenti che vincono ha bisogno di fenomeni perché il fenomeno è quello che alza il livello il fenomeno è quello che spinge tutti gli altri a superare i propri limiti quindi ci vuole un Mark Marquez punto di riferimento e faro di questa MotoGP che le suoni a tutte per dieci gare di fila perché così crescono anche gli altri invece così se si misurano tra loro sarà sempre il campionato dei pilotini dei pilotini perché i fenomeni veri ripeto se le sono date negli anni passati e non è un caso che comunque né il record in qualifica né in gara di Mark Marquez dei bei tempi andati sia stato battuto anche quello anche quello non è un caso lo dicevamo l'altra volta Fabio riguardo all'Argentina dicevamo guarda il tempo il record in qualifica è ancora quello di Marquez del 2014 e il record in gara è quello di Valentino del 2015 altra elettronica altre gomme tutto quel che vuoi ma ci sono stati otto anni di differenza di sviluppo si in qualifica in qualifica è stato battuto in Texas Martin l'ha battuto ah no è vero in Texas ha battuto ma non in gara non in gara non in gara il record di Mark Marquez in gara l'ha battuto di un'inezia l'ha battuto di un'inezia alla fine quindi comunque il discorso è la MotoGP secondo me ha bisogno di fenomeni non ha bisogno di tanti tanti piloti che si alternino ha bisogno di Mark Marquez che torni a fare il Mark Marquez questo è quello che auspico prima di dire la mia sul Texas leggo la classifica dopo questa gara l'ultima prima di entrare in Europa per 12 gare e poi ritrovarci in Asia ci sono state le 4 gare extraeuropee Qatar Indonesia Argentina Texas questa è la classifica del campionato extraeuropeo diciamo così nella MotoGP che Bastianini l'unico pilota in queste 4 gare a riuscire a vincere più di una ha vinto in Qatar al debutto e l'ultima in Texas 61 punti Rins come dicevo la Suzuki col pacchetto che ha piloti moto sta migliorando ed è sempre lì sempre lì con entrambi i piloti è vero non ha ancora vinto però sta portando a casa risultati molto buoni molto positivi e chissà quando arriverà in Europa in piste più gradite sia Rins che Amir secondo me può fare molto bene ricordo che però Rins aveva vinto in Texas nell'unico anno in cui prima di quest'anno Marquez non aveva vinto cioè la volta dove è scivolato e dove addirittura aveva Rins proprio fregato all'ultimo all'ultimo all'ultimi due giri Valentino Rossi che era che era in testa a quella gara quindi Rins 56 punti e Spargarò Aleix 50 quindi sempre lì il pilota dell'Aprilia Mir altra Suzuki 46 punti poi Quartararo quinto che nonostante le dichiarazioni dicendo che quello che posso fare per ora con questa moto è questa roba qui non siamo abbastanza competitivi per vincere una gara e poi ha anche detto mi sto guardando intorno per trovare altri team tra le righe si pare che sia vicino a Honda esatto pare che sia vicino a Honda è comunque quinto quindi giù il cappello al francese perché per trovare un'altra Yamaha bisogna andare oltre il quindicesimo posto poi abbiamo Brad Binder KTM 42 anche qui direi grande continuità di risultati di posizioni a punti molto molto lodevole per il sull'africano è la prima Ducati è la prima Ducati ufficiale in pista ultimo marchio esatto il Ducati ufficiale con Jack Miller è settima a 31 punti poi abbiamo C'è Honda ancora dietro c'è ancora Honda dietro esatto c'è Honda dietro ovviamente per mille motivi che abbiamo già detto per andare a trovare il nostro amico Bagnaia bisogna andare in dodicesima posizione con 23 punti quasi gli stessi di Marquez esatto praticamente gli stessi di Marquez che ne ha due in meno e ha saltato qualche gara ha saltato l'Argentina poi per la botta in Indonesia non ha fatto neanche quella tra l'altro è che ha gli stessi punti del suo compagno di squadra che le gare non le salta ma che si stampa o non fa risultato ecco per cui perché alla fine un po' le spargarone avviene a 23 poi alla fine mi stona anche vedere un Jorgen Martini che io avevo pronosticato nonostante la polla avevo pronosticato non sarebbe poi in gara riuscito a fare a replicare l'ottimo l'ottimo risultato in pole position perché avevo visto avevo intuito un po' che non aveva un grande passo gara rispetto a Bastianini rispetto ma mi aspettavo anche un bagnare in realtà con un passo gara migliore e mi sono sbagliato peccato per Pecco che comunque Miller abbia fatto quello che ha fatto sono contento anch'io però io spero che Pecco però si dia una svegliata adesso che si arriva in Europa adesso non c'è più la scusante dei test scusami Robi non c'è più la scusante delle grandi componenti che deve provare Bastianini deve solo guidare la moto e mettere la benzina e guidare la moto queste dichiarazioni un po' all'adovizioso permettimi ma visto che prima hai citato che spesso ha detto delle cose fuori luogo ecco Pecco secondo me sta replicando nella maniera sbagliata delle cose che ha fatto in passato Oldovi ma Miller le ha dimostrato che la Ducati l'avanti o meglio lì vicino al podio si può portare e che ha fatto una gara sicuramente più interessante di quella del Piemontese ecco chiudo poi ti lascio la parola poi siamo a moto 2 e moto 3 chiudo dicendo che io in Europa mi aspetto una Ducati ufficiale che faccia un passo in avanti perché se no è un disastro perché è oggettivamente un disastro mi aspetto una Honda che metta un po' in riga anche Paul Espargaro perché non è possibile che bisogna sempre appoggiarsi su Mark Marquez anche quando la moto non è fatta per Mark Marquez perché Mark l'ha detto in tutte le salse questa non è la mia moto questa non è la moto fatta su misura per me ma ti dirò una cosa in più perché ci credo nel progetto Suzuki secondo me Suzuki vincerà molte molte alcune gare in Europa perché sono convinto che stiano andando nella strada giusta spero ovviamente che anche Aprilia continuerà a fare a fare bene allora c'è tanto da dire sono d'accordo su Suzuki perché se guardi la classifica lasciami un attimo la classifica perché voglio fare alcune considerazioni alcuni ragionamenti allora classifica vede innanzitutto un Rins che diversamente dal solito è davanti a Mir che è il passista per eccellenza cioè quello che porta a casa tutto il massimo che può difficilmente sbaglia piuttosto si accontenta ma porta a casa punti è così che ha vinto due anni fa il mondiale Rins è lì e secondo me la Suzuki in questo momento forse è la più quotata per poter vincere un mondiale se non altro perché lo squadrano ufficiale ha due moto nei primi quattro posti a pochi punti di distanza e non a caso classifica team guarda dove è Suzuki tra l'altro sarebbe clamoroso perché torna suppo e la Suzuki potrebbe portarsi a casa il titolo che cosa è che può impedire a Suzuki di portarsi a casa il titolo una favola chiamata Bastianini e Tim Gresini che già solo per quello che ci sta dietro per Nadia per quello che è successo a Fausto sarebbe chiaramente il mio desiderata per questo 2022 che Bastianini ce la facesse e in questo momento mi sento di dire che spero che Ducati non gli dia materiale 2022 perché sarebbe controproducente sta bene così il buon Enea Enea è bravo però io non credo che sia più bravo di Pecco e neanche più bravo di Orge Martin sono tutti e tre molto talentuosi effettivamente in questo momento l'incognita la fa proprio questa moto 2022 poco decifrabile hanno sbagliato un po' il progetto diciamocelo ormai è chiaro perché se sbaglia uno ci sta ma se sbagliano sempre tutti cioè Miller fa fatica però è riuscito ad andare un po' avanti Martin fa la buona qualifica ma poi precipita in gara Pecco fa schifo in qualifica in gara e quando l'anno scorso invece faceva benissimo e lo dico lo dico da tifoso perché io comunque amo tantissimo lo stile di Pecco mi ricorda quello di Orge Lorenzo un pilota pulito che pennella le curve che frena forte dentro la curva oltre ad essere un suo quasi vicino di casa perché ho vissuto nella città di Accente alla sua Chivasso per tanti anni della mia vita quindi essendo piemontese nell'anima non posso non tifare anche per Pecco però secondo me in questo momento il problema è proprio il progetto c'è da dire però che ci sono state delle aggravanti cioè Pecco che partiva con un carico di aspettative enormi si è fatto travolgere dall'ansia dal nervoso dalla tensione dovuta appunto a una moto che non è adatta probabilmente al meglio al suo stile di guida e neanche a vincere in questo momento e chiaramente questa urgenza di farcela l'ha portato vuoi ad innervosirsi vuoi a sbagliare più del dovuto speriamo che possano fargli ritrovare la serenità cioè io credo che a un certo punto sia una parabola no a un certo punto Pecco si renderà conto che deve fregarsene perché tanto ormai quelli che dovevano uscire allo scoperto i cattivi quelli che devono dire ah eccolo qui un altro lamentino un altro che si lamenta la stessa scuola di Valentino e non è caso era il suo capo era quello che si è lamentato per anni arriva anche lui dall'academy iniziata la lagna quando si farà passare sopra questo tutto sto schifo e sta tossicità da social lui secondo me a un certo punto sbattendosene ritornerà ad essere il Pecco che conoscevamo perché deve semplicemente sbattersene dire sì è vero mi hanno rinnovato il contratto sì è vero ho fatto schifo nelle prime gare adesso vi faccio vedere come si guida perché lui ha il pensiale per andare veramente forte un grandissimo talento per il resto Quartararò ha una moto oggettivamente non competitiva e l'unica possibilità che ha di portarsi a casa a sto mondiale è di fare come fa Suzuki cioè portare a casa i migliori risultati di volta in volta e pregare che gli altri facciano errori non a caso più che Quartararò direi che il dramma è un morbidelli il prossimo anno lo vedo dritto in superbike perché sta facendo dei risultati che sono e completamente si è annientato Franco e c'è troppa competizione in MotoGP per i posti disponibili per cui credo che sia un bravissimo pilota anche rischiato di vincere un mondiale ma secondo me questo è il suo ultimo anno in MotoGP dopodiché gli proporranno un cambio magari con Toprak come dicevi potrebbe essere una possibilità team ufficiale Toprak anche se a me è venuto il dubbio non sarei contentissimo io se fossi in Toprak di finire su questa moto però vabbè la mia sensazione no a me è venuto il dubbio l'altro giorno parlando con con un appassionato di moto anche io gli ho fatto questa cosa che avevamo detto insieme settimana scorsa di morbidelli Toprak uno scambio Yamaha che potrebbe essere scambio alla pari e questa la suggestione Quartararo Honda non dovesse andare in Porto ma Quartararo dovesse magari andare in Ducati perché alla fine poi a Ducati uno dei due lo cambierà è vero anche che ce li hanno in casa Martino e Bastianini Ducati non gliene fraga niente Ducati sceglie tra Martino e Bastianini perché quest'estate si era parlato di Puig anzi quest'inverno si era parlato di Puig che aveva addocchiato Mir se Mir finisse in Honda Suzuki ha un posto vacante perché non morbidelli perché no mi verrebbe da dire no allora secondo me gli equilibri saranno questi faranno un team ufficiale italiani su italiane quindi alla fine per quanto Martin sia forte Bastianini sta facendo meglio di Martin quindi prenderanno Bastianini nel team ufficiale Martin resterà in Prama che salvo che se lo corteggi Honda perché potrebbe anche corteggiarselo Honda e potrebbero perderlo morbidelli potrebbe salvarsi se trovasse se riuscisse a collocarsi in un team satellite su Ducati facendo un test cambiando moto potrebbe essere una possibilità o magari potrebbe salvarlo lo stesso Valentino portandolo dentro il team VR46 anche questa è una possibilità un salvagente però chi sostituisce Bezzecchi Bezzecchi sta andando bene Marini non lo sostituisce perché è suo fratello che in realtà dei due è quello che sta facendo peggio e quindi alla fine sarà comunque dura per il morbido riuscire a riposizionarsi Mir e Rins sono competitivi entrambi Rins non sta sbagliando potrebbero essere anche loro interessanti in ottica Honda su KTM nessuno ci va salvo che sia minacciato con la pistola o lo coprano d'oro perché sanno che comunque lì non si va a vincere e Aprilia si tiene sui due piloti perché uno è il capitano e finché non si ritira tra l'altro ho visto una parte di MotoGP Unlimited come mi hai giustamente suggerito ma era solo una questione di tempo non di voglia quindi dicevo ma Aprilia grande riconoscenza nei confronti di Aleish e ci mancherebbe e Vignales sì e Vignales sì mi sta piacendo mi ha fatto scoprire un aspetto della personalità di Miller che me lo fa apprezzare ancora di più infatti io spero che Jack trovi comunque una collocazione lui sicuramente verrà sostituito ma lui è uno che voglio che resti nel circo della MotoGP perché magari tornerai in Bravo magari eh sì perché stavo dicendo una cosa quello che vedo in difficoltà e che mi ha deluso tanto in questi anni è Zarco cioè Zarco non è mai esploso ai tempi della Yamaha Tech3 lui su Tech3 Yamaha ha fatto delle gare che facevano presagire che fosse un fenomeno ti ricordi ha fatto delle pole position era una Yamaha più competitiva di quella di adesso la Yamaha dei tempi rispetto anche a quella ufficiale però comunque lui aveva lasciato intendere che fosse un talento pronto ad esplodere invece è finito nell'anonimato ecco preferirei vedere Miller al posto di Zarco in Prama anche se proprio dovessi vedere oggi hanno lo stesso punteggio dopo quattro Gran Premi sì però uno esatto sì è vero è vero hanno alla fine tutte e due la 2022 mi sta più simpatico Miller mi sta più simpatico Miller invece Aprilia è rimasta mi ha lasciato un po' di amaro in bocca e mi chiedo se il problema sia dovuto allo sconnesso cioè le sconnessioni di Austin sono state quelle che hanno messo in crisi una moto invece che però io ho sentito che ha un bel motore però dicevano poi io non sono un esperto ma in Argentina ti ricordi che c'era quel quel buco mi pare alla 11 alla 12 alla 11 dove dicevano continuamente guarda l'Aprilia come non si scompone guarda l'Aprilia come non si scompone bellissima moto grazie a questa grande capacità di di avere feedback positivo su questi problemi e allora mi viene da dire non è un problema delle sconnessioni dell'asfalto perché altrimenti in Texas appunto avrebbe dovuto essere molto più avanti al di là del comunque i suoi punti già fatti Aprilia quindi cioè ci sta che non sia sempre a podio no questo questo sì tra l'altro sembrava andare bene in prova poi si è un po' persa nelle qualifiche si è persa ancora di più in gara Aleish è sempre comunque un pilota che tende incline all'errore incline a sbagliare da quel punto di vista forse non stato troppo ottimista nel giudicarlo come uno dei principali candidati al mondiale sicuramente candidato in un mondiale così ravvicinato con così tanti piloti vicini nei punti salvo che adesso di punti in bianco non si riprenda Marquez e allora 30 punti quelli che 40 da recuperare li recuperare in una manciata di gara esattamente quello che ho scritto io ho scritto un pezzo a cavallo tra l'argentina e il texas appena saputo che Marquez sarebbe partito per l'america ho detto in un campionato così equilibrato il ritorno di Mark Marquez non fa altro che donare un campionato così equilibrato dona la chance a Marquez che parte praticamente con quattro gare di ritardo sui suoi avversari e dà la possibilità al 93 di vincere un altro campionato l'ha detto anche Quartararo anche Fabio ha detto Marquez ha tutte le chance ancora di vincere di vincere questo questo mondiale ma senti domanda da un milione di dollari è stato poi chiarito che cosa è successo in partenza a Mark Marquez perché da quello che se io no da quello che hanno detto ma non l'ha detto Honda pare un problema al al launch control esatto bravissimo allora perché perché io ho sentito anche allora questa gara me la sono vista su Nauti V grazie ad un amico non l'ho vista su motogp.com di cui l'abbonamento perché è venuto a trovarmi un amico ha detto guardiamocela in italiano che lui ha delle difficoltà con l'inglese ho detto va bene era un po' che non sentivo Mede e Sanchini sentiamo un po' i discorsi che fanno allora innanzitutto a parte il fatto che questi due si sono addormentati in partenza perché io ho subito visto Marquez dove è finito è stato risucchiato nelle retrovie se ne sono resi conto dopo un minuto di cosa era successo ma hanno addirittura detto una cosa che secondo me è una sciocchezza epocale ma ha modulato male la frizione in partenza ma cosa ha modulato male ma il launch control e l'elettronica che lavora lì altrimenti la moto si ribalterebbe quindi loro inseriscono la mappa di avvio di partenza gas a martello lasci la frizione e lì lavora il launch control insieme al controllo di trazione invece la moto si è affossata si è proprio ingolfata lui ha ripreso la frizione e ha sfrizionato perché la moto è andata completamente giù di giri vuol dire che il launch control non ha funzionato qualcuno ha ipotizzato questo potrebbe essere un'ipotesi ma mi sembra molto fantasiosa che abbia inserito la mappa pit limiter invece di launch control cioè detto in soldoni quella mappa che ti limita la velocità quando entra in box per non incorrere in sanzioni e quindi di fatto con quella mappa lì ha tagliato subito però è anche vero che se fosse entrata la pit limiter lui in partenza si dava il giro cioè con la mappa pit limiter diciamo che la battuta non ci ha visto bene devi arrivare ai 50 all'ora ma ai 50 all'ora dai il giro la battuta non ci ha visto bene qui calza a pennello sì assolutamente non ha visto bene che pulsante schiacciare ma ascolta ti faccio una domanda così a brucia pelo vai secondo te come talento Rins o Mir perché io come talento puro preferisco Rins ma sbaglia di più secondo me Rins secondo me Rins ha più talento di Mir anch'io sono d'accordo Mir ripeto non ho più avuto acuti non ho visto una gara dove sia stato incisivo ed è un campione più costanza più costanza a Rins è cattivo infatti Rins aveva sofferto tanto il mondiale vinto da Mir perché insomma se lo sentiva un po' come se fosse ma poi come in tutti di sport spesso vince chi sbaglia meno chi si trova chi sbaglia meno chi si trova al momento giusto nel posto giusto Rins aveva fatto una serie di errori ci sono stati un po' di però vabbè insomma sono due ottimi piloti ma Rins Rins è più bravo ecco moto 2 moto 2 vince Arbolino Vietti la lancia ma canè ma canè canè che si stava recuperando in una gara tutto il gap da Vietti e l'ha gettata via e non parliamo poi di Bobbiè che Bobbiè non solo si è fatto fregare da Dixon della stessa squadra ma all'ultimo giro è riuscito pure a lanciarla via pure lui e quindi la pole position l'ha come posso dire concretizzata in 0 0 secco potrebbe tenersi su un quarto posto invece che a me piace anche Bobbiè poi mi piace vedere dei piloti americani sul tetto del mondo si pensava che Joe Roberts avrebbe fatto fuoco e fiamme negli anni scorsi poi è precipitato anche lui nell'anonimato cioè Joe Roberts ha fatto non esce dalla mediocrità ed eccolo lì canè che si poteva fare 59-69 andava addirittura in testa al mondiale se vinceva di qualche punto e invece è tornato lì augurare ha recuperato punti Arbolino ha recuperato punti per me Celestino resta ampiamente il principale candidato al titolo però non deve fare cavolate come ha fatto questa volta altrimenti va a perdere il titolo come l'ha perso Marini su Bastianini che alla fine facendo cavolate nelle ultime gare un titolo già vinto è riuscito a perderselo però io non mi aspettavo è caduto anche a Costa è caduto ancora a Costa che non sta facendo non sta facendo il fenomeno che pensavamo che avrebbe fatto che invece Marquez aveva fatto Arbolino molto meglio di come mi aspettavo sono sincero sì gli hanno servito la vittoria comunque perché a Tenti non avrebbe vinto però avrebbe fatto però non è se fare bene di uno che si chiama Sam Lowes che ha fatto abbastanza la storia recente della Moto2 sta facendo più punti e Lowes è veramente mediocre in questo in questo inizio di campionato ci si aspettava molto di più da lui invece dicono molto bene giustamente di Chantra perché Chantra è la sorpresa dicevano giustamente di questo campionato proprio la sorpresa di questo campionato Moto2 Chantra Ferminaldegari invece di nuovo è andato forte in prova e poi Errori in gara è ancora immaturo ma è giovanissimo è giovanissimo però ha un talento anche lui ma Chantra è sicuramente come posso dire il rookie non il rookie non se è rookie lui non è rookie probabilmente però è sicuramente la sorpresa di quest'anno è lui però ma mi sembra che invece Ogura possa essere rookie non mi ricordo se l'anno scorso o hanno confermato entrambi non mi ricordo però Ogura anche lui ha 20 anni quindi sta facendo molto bene sta facendo un gran campionato sono contento di vedere un giapponese lì sul tetto del campionato vicino al vertice del campionato Moto2 perché serve dai comunque poi la scuola dei piloti giapponesi è una scuola molto particolare che ci ha regalato dei piloti tra l'altro con delle personalità eccezionali eccentrici io adoravo io adoravo 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 Abe che tra l'altro era l'idolo di Valentino no Norifumi Abe il primo soprannome Rossifumi arriva proprio da arriva proprio da Norifumi ma io ti volevo dire una cosa sull'Italia perché in questi giorni ho sentito letto giornali visto telegiornali che celebravano giustamente Ducati in MotoGP e Ferrari prima in Formula 1 con le Clark e anche Ducati e Superbike esatto io dico però si è citato poco Moto3 e Moto2 che in questo momento hanno due piloti italiani in testa al mondiale cioè Foggia non sta dominando perché esatto se vogliamo commentare la Moto3 Foggia non sta dominando come ci saremmo aspettati queste gare cioè ci aspettavamo un dominio in contrastato di Foggia una dimostrazione di superiorità disarmante che invece non c'è però comunque sta cercando almeno un po' di concretezza sta evitando di fare troppe sciocchezze quindi da questo punto di vista devo dire che Foggia comunque qualche soddisfazione ce la sta comunque dando sì volevo ecco condividere la classifica mentre ci scrivono intanto salutiamo Gigios ciao Gigios chiedo scusa se avete già finito l'argomento che ne pensate della questione Ducati GP21 GP22 guarda parliamo un attimo della Moto3 e poi riprendiamo un attimo il discorso perché in effetti non abbiamo fatto una grossa una parentesi evidente sulla Ducati di quest'anno di quella dello scorso anno se non parlando dei risultati Moto3 con Foggia davanti come dicevi tu bene Roberto non sta ampiamente dominando il campionato è vero anche che va ricordato che in Catarra ha affrontato due long lap penalty se no probabilmente avrebbe quasi sicuramente centrato il podio se non vinto e sarebbe un pelo più avanti però diciamo che ha un certo margine che non è enorme su Garcia ma soprattutto su Migno che ha comunque 33 punti che non sono di certo pochi devo dire che però lo spagnolo della Gas Gas a parte l'errore di questa domenica sta tenendo un ottimo ritmo Foggia non deve incappare in errori quello che deve fare Foggia è quello che sta facendo non incappare in errori io tra l'altro ho un grosso dubbio che non so se tu riuscirai a fugarmi ma a Foggia secondo te è un pilota che può far bene in altre categorie perché io non ho questa convinzione che Foggia possa che ne so scalare bene verso la Moto2 oltre secondo me è un pilota che può fare bene in Moto3 finita lì cioè non lo vedo come una una costa lo vedi lo vedi un dalla porta tu che per ora sta lo vedo più un dalla porta che tra l'altro condivide lo stesso lo stesso team lo stesso percorso ha vinto il mondiale proprio con Leopard e Lorenzo era penultimo terzultimo comunque non è neanche l'anno del debutto in Moto2 anzi fra poco farà la fine di Baldassarri secondo me ti dico una cosa Roberto che al netto di Mir che nel 2020 per delle congiunzioni astrali vince il mondiale nessun pilota dell'Eopard Moto3 poi ha fatto bene in altre categorie sì è vero ma anche perché Kent dalla porta Mir che al netto di quella parentesi e vedremo Foggia anche perché si abituano ad avere una moto che è un missile rispetto alle altre e poi in Moto2 si trovano moto che sono tutte estremamente vicine dove fare un sorpasso anche in scia è un casino perché le moto hanno un livellamento delle prestazioni assurdo e in MotoGP è richiesta invece poi una guida completamente diversa ma hai dici una cosa secondo me sensatissima guarda invece che ha vinto e fatto bene in Moto2 facciamo il caso guarda un po' Morbidelli che ha lottato nelle derivate Bagnaia che si è fatto un sederino così con la Mahindra quella di Moto3 che aveva una moto che era una carriola è vero quello che dice hanno vinto piloti che erano abituati a lottare e non abituati a prendere e partire potrebbe essere una risposta sì sì o superare in rettilineo perché avevano 10 km all'ora in più e la moto che gli altri non riuscivano neanche a prenderti la scia che è sempre sempre stato così con la Honda Leopard Racing per cui è sempre stata velocissima allora io direi chiudiamo questa questa nostra diretta di un'ora rispondendo alla domanda anche con Petrox non possiamo non menzionare i dati abbiamo menzionato all'inizio poi ce ne siamo scordati allora facciamo così GP21 GP22 secondo me torneranno come diceva prima Roberto hanno capito stanno capendo che il progetto è un po' inefficiente e quindi probabilmente si avvicineranno senza involvere quindi manterranno lo sviluppo quel che possono del GP21 della GP21 ma abbandoneranno qualcosa della GP22 perché risultati del genere con due piloti Miller l'anno scorso ha vinto due gare Bagnaia si è giocato il titolo fino all'ultimo e Bastianini ti sta dicendo guarda che la GP21 va veloce e funziona e Ducati come marchio non può proprio non guardare in faccia questa realtà quindi secondo me cercheranno di tornare sui loro passi nel modo meno doloroso possibile considerando che la Ducati deve anche fare i conti con come posso dire con quello che è stata la messa fuori legge dell'abbassatore c'è tutta una serie di cose di trovate che tra l'altro erano colpi di genio e quindi sono state anche una stoccata e un duro colpo dato soprattutto alla creatività perché alla fine il buon Gigi Dallinia non è che ha trovato escamotaggio o altro quella è creatività dovrebbe essere inventiva e i giapponesi sono messi di traverso e la Dorna gli è andata dietro come sempre mi ricorda un po' certe situazioni Mercedes in Formula 1 è vero è vero però grazie al cielo che quest'anno invece Ferrari si sta riprendendo le soddisfazioni che c'eravamo anche dimenticati che cosa che cosa volesse dire avere una Ferrari così competitiva e invece invece adesso fortunatamente anche lì tra l'altro e poi la chiudo non voglio andare su divagazioni anche lì si vede come il pilota pur talentuoso senza la macchina competitiva non possa fare niente e di contro come con la macchina competitiva l'estero il talento venga fuori ma non trasformi un pilota anzi forse la macchina competitiva è ancora più selettiva perché finché la macchina non era competitiva c'era un appiattimento tra le performance di Sainz e di Leclerc guarda adesso invece con la macchina competitiva quanta paga che Leclerc sta dando a Sainz si vede che il limite della vettura di prima non competitiva abbassava il livello smorzava il talento dei piloti perché il limite della vettura era quello adesso che c'è una vettura che ha un livello altissimo e che permette al talento vero di fare la differenza ma quanto gli ha rifilato Leclerc a Sainz in qualifica non parliamo in gara che si schiantava mentre lottava nelle elettrovie e lui che dominava la gara questo sempre per dire sì elettronica sì vettura fortunatamente il talento del pilota conta dall'altra parte Hamilton se le sta prendendo da Russell come io avevo previsto però senza la vettura competitiva sono tutti e due dietro chiudiamo su Petrucci chiudiamo su Petrucci è vero che era la pista che conosceva e quindi come dire forse c'era anche da questo punto di vista un po' di certezza quantomeno di un risultato positivo che vincesse non era scontato assolutamente come dire ha fatto un triplete magnifico cioè ha vinto al Mugello ha vinto una run della Dakar e oggi vince la prima gara della moto America che dire un pilota fantastico che si diletta a fare più cose possibili secondo me ci divertiremo allora Danilo con la sua semplicità con la sua umiltà qualcuno dice con quel con quell'aspetto voglio dire da operaio proletario che ce l'ha fatta perché lui è veramente quello dalle origini semplici dalle origini umili non è mai stato quello portato in trionfo come posso dire osannato come un campione eppure nell'umiltà e con il lavoro duro si è costruito successi in ogni categoria anche nella massima categoria lui puoi dire io sono stato vincente più volte in MotoGP che se una mi puoi dire l'hai vinta magari di culo non puoi vincerne più di una se non sei un pilota di alto livello tra l'altro lui ha vinto negli anni in cui c'erano i fenomeni in pista non c'erano i pilotini c'erano i fenomeni in pista quindi quelle vittorie se le meritate fino in fondo io stimo davvero Danilo perché si è trovato la sua dimensione e la sua dimensione è quella del pilota poliedrico e io ti dirò che il Danilo che sembrava fuori dai giochi parcheggiato dimenticato con la Dakar con questo coraggio visto a follia di mettersi in gioco in una categoria completamente differente si è guadagnato così tanti estimatori Danilo che tornerà più forte di prima ambito e desiderato in superbike almeno ce lo vedo tornare in superbike a livello mondiale eventualmente anche in ultima ruba magari al posto di Rinaldi che ripeto secondo me non può non può fare più di tanto perché il suo livello è quello cioè piccola parentesi tornando su Rinaldi gara 2 Bautista andava non a passeggio ma andava a ritmo gara Rinaldi nei primi giri tipo 5-6 giri gli è stato dietro era di traverso ad ogni curva rischiando l'osso del collo disintegrava le gomme finiti quei 5-6 giri Rinaldi gomme finite ha detto ciao è finito dietro Bautista ha proseguito con quel ritmo quel passo da lì fino alla fine e ha rifilato gran secondi a tutti quello è Rinaldi cioè arriva fin lì Petrucci potrebbe far meglio Talk GP si dimostra un po' come la vita cioè ciclico abbiamo parato in inizio puntata della superbike e ci siamo ritornati chissà che magari appunto come dicevi tu Petrucci poi possa andare in Ducati ce lo vedo bene anch'io su una bella panigale a dare manforte a Bautista o a giocarsi assolutamente al titolo del mondo noi ci rivediamo sicuramente tra qualche settimana quindi lunedì prossimo Roberto prenditi pure gli impegni che vuoi perché ovviamente ci passeranno 15 giorni prima della prossima gara quindi magari ci vedremo il lunedì prima del Gran Premio e poi quello successivo ora vediamo lo organizzeremo ma comunque sui social di Talk GP ve lo faremo sapere ti ringrazio Roby grazie a chi ci ha seguito grazie però aspetta mi è venuta in mente una cosa un'ultima considerazione prima hai detto di Petrucci che ha vinto al debutto in Moto America ed effettivamente non era una cosa scontata vorrei ricordare ti ricordi l'esperimento che ha fatto Miller che ha detto mi vado a fare una gara della superbike australiana e gliele hanno suonate quindi gli specialisti di queste categorie non è scontato che tu dici sono pilota MotoGP vado lì e vinco Petrucci c'è andato con la moto competitiva Miller c'è andato con un team di secondo piano ha detto vado a divertirmi se le fate suonare dal padrone di casa per cui bravo due volte Danilo che è andato preparato ha fatto il compitino bene e alla fine le ha suonate anche in gara 2 a Gagne come si chiama Gagne qual è la pronuncia Gagne in inglese Gagne si una roba del genere impronunciabile impronunciabile il campione in carica che l'anno scorso ha vinto 16 c'ha 7 gare quante ne ha vinte il bautista della moto america e lui le ha rifilate pure a questo qui quindi grande Danilo l'unico dubbio come dicevamo prima è su piste che non conosce che sarà un po' più complicato ciao a tutti grazie mille ciao Roby ciao Fabio grazie di tutto grazie a tutti grazie a tutti